Ripresa degli allenamenti per i loop in quel di San Michele di Serino sul campo sintetico, probabilmente per abituarsi a quel che sarà il manto erboso del Partenio Lombardi dalla prossima stagione. Il primo appuntamento sul campo dopo la pesante sconfitta incassata nel primo turno di Team Cup contro la Bassano Virtus a Bassano del Grappa. I ragazzi si stanno allenando, sono in 23 in gruppo, la notizia di oggi è che in gruppo c'è anche Marco Migliorini, lavoro differenziato per William Gidai ed ancora fermi ai box Gavazzi e Paghera che stanno facendo ancora una volta lavoro differenziato e potenziamento in palestra. I ragazzi stanno qui sul campo, stanno sudando, stanno facendo una fase atletica molto molto intensa, poi degli scambi anche basati sulla tecnica. Tutti in gruppo dunque pronti per ricominciare dopo i due giorni di stop dopo la sconfitta. Un arcobaleno benaugurante ha salutato i lupi al loro ingresso sul campo di allenamento a San Michele di Serino, come a suggerire di scacciare via le nubi della sconfitta di Bassano del Grappa e ricominciare a lavorare, guardando solo ed esclusivamente all'inizio del campionato previsto per il prossimo 27 di agosto. 23 gli uomini in campo alla corte dello staff tecnico di Mimmo Toscano, quest'ultimo assente per la prima parte dell'allenamento, che hanno cominciato a prendere confidenza con il sintetico, lo stesso Manterboso che, da qui a poco, almeno si spera, calpesteranno al Partenio Lombardi. Assente Angelo Rea che non si è allenato con i compagni, segno che la valigia, direzione ancora ignota, è già pronta per essere usata. Differenziato per Gidai e Migliorini, il recupero di quest'ultimo in particolare fa ben sperare, avendo svolto la corsetta iniziale con il gruppo con buon passo e in tranquillità. Gidai, acclamatissimo dal pubblico, ha rassicurato chi gli chiedeva del suo ritorno, abbozzando un molto presto che somiglia ad una speranza. Terapie per Gavazzi e Paghera, ancora fermi ai box dal ritiro precampionato di Sturno. Assenti giustificati perché impegnati con l'Urlander 21, che giovedì sfiderà l'Albania, Biraschi e Verde. Tanta corsa e potenziamento negli allenamenti di Toscano, che continua a puntare molto sulla tenuta fisica dei suoi, che potrà essere testata già sabato 13 nel corso del test amichevole che si svolgerà a Lioni contro il Vultur Rio Nero, squadra che milita nel campionato di Serie D.